Un mese di incarico per il neoeletto presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, e già sono pronti foglie critiche al suo operato. A presentare le cifre emesse, nero su bianco, sulle determine riguardanti edilizia scolastica, uffici di supporto agli organi di direzione politica, uffici scolastici, pubblica istruzione, biblioteca provinciale, c'è Sandro Marinelli del gruppo Provincia Prima, che denuncia uno sperpero non giustificato. Non ci è consentito di lavorare. Ad oltre un mese di distanza dall'insediamento noi non abbiamo ancora le stanze dei gruppi, non abbiamo personale, non riusciamo ad operare. Il presidente non si sa bene di che cosa si occupi e purtroppo però riesce comunque a fare delle spese che non hanno alcun senso rispetto a quelli che sono i programmi che pure ha manifestato e che noi abbiamo inizialmente condiviso di economia, di riorganizzazione e di ristrutturazione. Stipendi e incarichi non giustificabili, secondo Marinelli, per ricoprire ruoli che vedono l'ingresso di figure già esistenti all'interno del personale provinciale. Esiste un decreto del 5 novembre scorso dove si specifica da parte del gruppo Prima Provincia che sarebbero stati sottratti quattro dipendenti addetti al Consiglio provinciale per dirottarli al gabinetto del presidente e l'individuazione poi di una giornalista senza alcuna forma di evidenza pubblica al costo di 3.000 euro mensili per curare la propria rassegna stampa. Abbiamo una situazione paradossale nella quale quando si grida a tagli, a ipotetiche interruzioni dei servizi primari, quali addirittura lo sgombro della neve per mancanza di risorse, ci viene proposta al Consiglio provinciale di urgenza, al Consiglio provinciale di domani un'ipotesi di aumento di 2 milioni di euro di spese addirittura per il personale in una situazione dove probabilmente su 300 persone oltre 100 potrebbero essere inutilizzate del tutto.